Benvenuti a questo nuovo video relativo alla logica booleana. In questo video parleremo dei teoremi di De Morgan. Le leggi di De Morgan sono relativi alla logica booleana e stabiliscono la relazione di equivalenza tra gli operatori di congiunzione, cioè la logica endo e la logica or. Quando sono utilizzati? Sono utilizzati per l'analisi dei circuiti logici, che possono essere binari. On-off, quindi o elettrici, elettronici, pneumatici, l'importanza è che comunque sia logica binaria. Le leggi di De Morgan sono due. La prima legge di De Morgan afferma che la negazione del prodotto logico, quindi A in B negato, di due preposizioni A e B, equivale a questa somma logica. Quindi questo prodotto logico è in B negato, De Morgan ci dice che questo equivale ad A negato o al B negato. La seconda legge di De Morgan è l'opposto, cioè la negazione della somma logica equivale al prodotto logico della negazione. A negato e B negato. Bene, adesso siamo con il programma, con il software Multisim per poter testare, confrontare, questa prima legge di De Morgan per esaminare la negazione A in B negato, equivale ad A negato o B negato. Quindi mettiamo in run. Mettiamo in run. Qui abbiamo la nostra tabella con le variabili, la tabella della verità con le variabili, questa è la variabile A, la variabile B. Questo è il risultato di A negato e di B negato. Queste sono le operazioni logiche end di A e B. Questa è l'operazione end, A e B negato. Ovviamente quando è 0, se è negato diventa tutto 1. Questa è l'operazione logica OR di A e B. Questo è invece il risultato di A negato o B negato. Infatti A negato o B negato, 1 perché? Perché qui ho 0 e qui ho 0. In questo caso è 1 perché ho 0. A negato A è 0. In questo caso ho 1 perché B è 0. Se ho 1 e 1, questa operazione, questo risultato non c'è. Andiamo a vedere come è composto questo circuitino per confrontare questa equazione. Abbiamo le due variabili A e B che sono collegate ad una porta logica not end e quindi all'uscita avrò A e B negato. Le due stesse variabili A e B sono collegate con due not dove in uscita avrò A negato e B negato. Il risultato di A negato e B negato sono collegate ad una OR. Quindi a questo punto, all'uscita della OR, avrò la negazione di A o B. Andiamo a la prima opzione, A e B, 0. E quindi devo avere A e B negato, eccolo qui, A o B negato. La seconda mi dice se devo negare B. Vedete che qui ho B negato. Però il risultato deve essere 1 e 1. Eccolo qua, 1 e 1. Terza opzione. Terza opzione. A, B negato. Devo avere A e B, eccolo. A o B negato. L'ultima opzione invece è quando sono tutti e due 1 non ci deve essere quindi abbiamo visto da questo schermino, da questo circuitino la validità della legge di De Morgan. Cioè che l'equazione A in B negato corrisponde ad A negato o B negato. La seconda legge di De Morgan è invece quest'altra. A o B negato corrisponde a A negato o B negato. Nello stesso discorso che abbiamo fatto prima la tabella della verità A e B, le negazioni A o B la negazione di A o B negato che ovviamente essendo tutti 1 questi sono tutti 0 avremo A o B negato solo in questa situazione quando A e B sono 0. Questo qui è questa è l'operazione logica AND e questo invece è A e B negato. A e B negato significa che non ci deve essere A e non ci deve essere B quindi solo questa prima condizione. Se c'è A o se c'è B o se ci sono tutte e due il risultato deve essere 0. Andiamo adesso a provare questo circuitino per dimostrare la validità della seconda legge di De Morgan. Allora mi dice che con A 0 e B 0 questa è la condizione sono collegata ad una A e B sono collegata ad una porta NOR un NOT negato in modo tale che all'uscita ho la negazione A e B negato. Come precedentemente A e B sono ognuno collegata ad un NOT così abbiamo la negazione e tutte e due vanno in una porta AND in modo da avere A e B negato. quindi la prima condizione dicevamo è A 0 e B 0 eccolo qua se A 0 e B 0 devo avere A B 1 eccolo qua oppure A negato in B negato 1 tutte le altre condizioni non deve esistere non ci sarà non ci sarà 1 andiamo a vedere B 1 se B è 1 eccolo qua 0 0 se A è 1 0 è 0 se A e B sono 1 A or B negato vale 0 A negato e B negato vale 0 così in questo modo con questo semplice esempio con la costruzione di questo circuitino abbiamo dimostrato la validità delle due lezioni leggi di De Morgan come dicevamo la prima la prima la prima ci dice che il prodotto il prodotto logico negato A e B corrisponde alla negazione di A or B negato e la seconda invece ci dice che la somma logica la negazione della somma logica A e B negato corrisponde ad A negato e NB e B negato vi ringrazio per la vostra attenzione per aver visualizzato e considerato questo video spero che sia stato di vostro gradimento se vi è piaciuto iscrivetevi pure al mio canale dove troverete altri video sulla logica sulla elettronica sulla programmazione Arduino programmazione di schede LabView e anche programmazione PLC Siemens è molto alto vi ringrazio nuovamente e alla prossima arrivederci